In Sicilia ho trovato un ambiente ottimale, ci sono molte cose da fare, il Presidente me le ha elencate, gli aspetti che vuole incrementare per poter arrivare alle 500 mila vaccinazioni, però devo dire che già oggi siamo sopra le 20 mila vaccinazioni, quindi in linea con il piano e questo pone la Sicilia in percentuale alla popolazione tra le prime regioni e come dicevo prima sicuramente ci sono altri aspetti da poter migliorare e devo dire ci sono anche delle buone pratiche, in quest'ambito volevo segnalare sia la pianificazione che sta portando avanti la regione siciliana e sia un'iniziativa veramente molto interessante e che può essere una buona pratica per tutti che è quella della conferenza episcopale siciliana in sinergia con la regione siciliana che avverrà il 3 aprile prossimo, quindi alla vigilia di Pasqua e che vedrà la possibilità di arrivare fino a 500 punti vaccinali in altrettante parrocchie delle diocesi siciliane per poter fare sia la prenotazione sia la somministrazione di vaccini e questa è una cosa molto importante che va in linea col piano nazionale di creare anche la capillarizzazione laddove possibile.